200 venditori abusivi alla fiera di San Matteo a Fossombrone. E' accaduto lo scorso fine settimana lungo le vie del centro storico, dove con un lenzuolo e mercanzia varia, per lo più capi di abbigliamento e borse, cercavano di vendere i loro articoli di note, marche, griffate e contraffatte. Uno sgarro per chi ha dovuto rispettare le regole e pagare le tasse e che invece ha dovuto subire una concorrenza sleale. Come raccontato dal vice sindaco Michele Chiarabilli, il comune ha dovuto predisporre un piano di contrasto. Abbiamo dovuto coordinare il comando di Polizia Municipale, che avevamo 5 addetti, più 5 addetti di una società privata che ci ha dato una grossa mano e che volevo pubblicamente ringraziare. Avevamo avuto la Croce Rossa, che ci ha aiutato nel traffico, e anche le GEV e gli ispettori ambientali. Quindi è stato un coordinare di forze, però chiaramente è stato un grosso impegno che richiederà sicuramente di essere rivisitato anche in futuro. Già in previsione di questo, e già dai giorni precedenti, avevamo allertato e comunicato questo potenziale evento anche alla Prefettura e alla Questura. La polemica era già nata fin dalla giornata di sabato, quando al nodo di scambio delle corriere, nell'area adiacente alla stazione ferroviaria di Fano, alcuni studenti sono stati costretti a scendere dall'autobus per far posto a una settantina di venditori abusivi, diretti alla fiera e pronti a vendere nuovamente, nonostante fossero stati allontanati poco prima dalla città forse empronese. Noi siamo stati allontanati per una parte, perché chiaramente su 120 noi siamo riusciti a portarne 70 a Fano. Chiaramente abbiamo impedito per tutto il pomeriggio a questi di poter lavorare, però già noi sapevamo che era difficile contrastare questo fenomeno, per quello che avevamo cercato di attrezzarci. Però dobbiamo farlo ancora con più forza e questo non è che può capitare solo a Fossombrone, perché le condizioni stanno sempre più peggiorando per queste persone. E bisogna fare anche una lotta serrata e determinata sia nei confronti di chi gli vende il materiale, cioè chi glielo rifornisce, ma anche di chi lo compra. Perché è ora di stroncare alla radice, sia a livello regionale, ma anche a livello soprattutto nazionale, questo fenomeno che è ormai imperverso in tutta Italia.